Ora, Max! Che cos'è questo rumore super fastidioso? Ottimo atterraggio, Max! Quelle nuove molle di sospensione ti hanno aiutato ad atterrare dolcemente. Non ci sarà bisogno del piano di riserva, giusto, Rosso? Ora devo solo fare un ultimissimo ritocco. Anche tu vorresti essere come tuo fratello, vero, Molly? Resta qui, arrivo. Ti monterò delle molle di sospensione di gran lunga migliori di quelle di Gekko. Sta a vedere. Ho quasi fatto, Max. Ma che succede? Salta più in alto di quanto mi aspettassi. Oh, no! Molly sta saltando un po' troppo. Dobbiamo fermarla subito. Presto, Rosso, il piano di riserva! Sei pronto, Rosso? Adesso attiviamo il piano di riserva! Ora va tutto bene, Molly. So che volevi solo essere come tuo fratello maggiore. Sistemiamo quelle molle, va bene? Vai, Molly! Gekko, credo di poter montare delle molle migliori delle mie. Queste nuove molle ti faranno atterrare come si deve. Ci vediamo presto, Molly! Ora puoi andare a divertirti.